Li deve togliere nella maniera che è più facile possibile, ovvero dimostrando la supremacità che è più forte, però stando molto, ma molto, più attenti rispetto all'andata, anche perché comunque ha giocatori veloci il Celta, ha comunque Hernandez, a Iago Aspas che possono mettere in difficoltà la nostra difesa, ci vorrà, oltre che tattica e fisica, diciamo ci vorrà una preparazione mentale particolarmente, cioè stare a te e non concedere nulla, non sbagliare, non calare diciamo di nervosismo, perché altrimenti il Celta te la butta sul calo di tensione, diciamo ti può fregare con l'isiverenza, tra virgolette. È giusto, penso che sia una giusta analisi, no Alberto? Sì, sì, è un bel analisi, un'analisi profondo diciamo. No, ma la partita col Celta certo è una di quelle che purtroppo, purtroppo, non dico che è a rischio, però è una di quelle che abbiamo che sono pericolose, insomma, ecco, perché poi non dobbiamo dare il fianco per il loro contropiede, anche se io li sto vedendo insomma abbastanza, abbastanza, anche spenti fisicamente. Sì, è vero. No? Non trovi? Sì, sì, no. Sì, è vero anche perché comunque non è che si perde 4-0 a Sevilla, poi successivamente al Valai Dosto va a fare 1-1 con la stessa squadra. Ma poi ne hanno perse tante di partite. Sì, però diciamo, Max, quando vedono il Barcellona tendono sempre a cattirare fuori la grinta, pure l'energia. Va bene, va bene, va bene. Allora, ti do, prima di lasciarti, ti do la formazione che Antonio Galletti ci dà per domani. Allora, Antonio dice Te Stegen, Alexi Vidal, Bartra, Bermalen, Mathieu, Arda Duran, Sergi Roberto, Munir, Sandro, Neymar, dice Antonio, sei d'accordo? Beh, sì, perché comunque va bene ruotare, però non addirittura 12-11, è giusto dare spazio anche a Neymar, sì, nonostante la robuante vittoria dell'andata. Senti, e ci aggiunge Antonio... Anche lo sai che cosa, però, Arda Duran, io lo conterverei per la partita di domenica perché ci vuole uno più battagliero contro quelli. D'accordo. Condivido, condivido questo che stai dicendo. E Antonio, già dai risultati per domenica un secco 4-1. Vabbè, Antonio, io già... Mi sembra il minimo, mi sembra il minimo. Tu proprio il minimo. Il minimo. Il minimo sindacale, vabbè. Sì, è perché penso sempre all'andata. Ciao, no. Non possiamo perdere 4-1. No, no, non possiamo perdere 4-1 assolutamente, no, insomma, questo è fuori... Questo è fuori... Questo è fuori ombra dei tuoi. Fuori questione. Fuori questione. Lo scorso anno, Max, la scorsa stagione è stelta proprio, venne a vincere il Campo 9. Gol di Larry Ray. Sì, vabbè, quella è stata una partita un po' strana, dai, insomma... Eh no, perciò questi un po' giocano bene, un po' sospolati, eh, domani... Cioè, domenica alle 5.00 è la fine del primo tempo. Sì, 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 questo è vero. Questo è vero. Senti, l'ultimissima... Sì, perché lui va via alle 10, sono 10-5, eh? No, e poi ti lasciamo. Ma quanto, secondo te, queste ennesime, anche oggi è uscita questa cosa di busi, poi ne parleremo? Ma no, ma sono tutte balle. Già l'ha sentenziato, Francesco. Sono tutte balle. C'è una buschezza, uno c'è un'icona del basta, come fa a lasciare? Perché, diciamo... Cioè, non è una notizia, cioè, è credibile come Totò quando voleva vendere la fontana di Trezzi. Dici proprio che... Ammesso e non concesso. Ammesso e non concesso. Ecco. Ammesso e non concesso. Vabbè, vabbè, quindi tu proprio la... No, no, ma non ci credo nemmeno un po'. Non sono per nulla preoccupato. Chiudi ogni tipo di discussione in materia. Di discussione, di porta, di Serranda, di Saracinisca e di Garai. Diciamolo però perché, insomma, oggi è uscita questa notizia di questa intervista che dice che Buschezza avrebbe detto Io posso andare via da Barcellona solo se me lo chiede mia moglie e Guardiola. Guardiola è il posto che è arrivato del Siti e quindi ci siamo un po' spaventati tutto qua. No? Beh, diciamo spaventati sì, ma comunque già il fatto che dice posso andare via da Barcellona solo se... Diciamo un coso abbastanza estrema perché non credo che la moglie glielo chieda. Lo scarpa a priori questo. Certo. Però bisogna vedere l'unica cosa proprio, ma eventuale e remota. Ma che cosa farà Guardiola con Iaia Turri? Ah, questo è vero. Vabbè, questo però a noi ci interessa, non ci interessa perché è una cosa che... Sì, appunto, ma non credo che il Siti faccia questo movimento e quindi Buschezza rimane da noi. Perfetto. Signor dei giochi. Se lo dice Francesco Buonagura, io ci metto due le mani di Orfoco, faccio come Muzzi e Scevola, guarda. Va bene, allora Cesc ti dobbiamo salutare, sono le 21.57. E Francesco, io ti do la buona uscita con una barcelletta. La buona uscita io dai. Va bene, vai. Visto che in tempo di, diciamo, di crisi, di buone uscite non te ne vedo, almeno la barcelletta. Allora, un bambino all'uscita del Santiago Bernabéu lo trova Cristiano Ronaldo e le dice Cristiano, Cristiano, mi firmi dieci autografi? E Cristiano dice, va bene, io te li firmo. Ma perché vuoi dieci? Dice, perché poi a scuola mi cambiano dieci autografi. Per uno di me, sì. Per uno di me, sì. No, ma neanche dieci, cento forse. Cento forse. Solo il nome. Cento forse, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora Cesco, un abbraccio e ti salutiamo. Ciao Francesco. Ciao. Un abbraccio a tutti, raga. Per domani, diciamo, guardiamoci questa partita in modo molto rilassato e poi stessa a domenica, perché sarà, diciamo, l'antipasto per mercoledì, perché poi ci darà la mattata definitiva alla Liga. Buonaniel, visca il basso. Visca, visca, visca. E ovviamente noi ci sentiamo in questi giorni sui social network e ovviamente, insomma, siamo prontissimi per affrontare noi la partita e poi per prepararci alla partita con il Celtavico. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Buonaniel. 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 Buonaniel, 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 buonaniel. Buonaniel, 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 bu E volare però sin peri, come aventureros, volveremo a sognar Volveremo a sognar Volveremo Volveremo a sognar Io te respeto amor, tu me insegnaste los secretos del camino E lo mejor es tenerlos que andar De flor en flor, polinizar en las mieles del sabor, juntos mejor E volar però sin peri, come aventureros, volveremo a sognar Volveremo a sognar Volveremo Volveremo a sognar Menos una vez más Me ilumina el sendero, las estrellas E lo mejor es bailarlo con ellas Es un circo de canciones bellas Compartiendo el don Entre nubes y algodón Y a volar pero sin peros Como aventureros volveremos a sognar Si hace frío nos daremos calor Abrázame que a mí me sienta mejor Hoy me levanto con ganas de andar A la orilla del mar Vivir para vivir, no verlo para creerlo Vivir para contar, no serga para tocarlo Probar para probarlo Cantar para cantarlo Soñar para soñarlo Juntos Si hace frío nos daremos calor Abrázame que a mí me sienta mejor Hoy me levanto con ganas de andar Juntos Volveremos a soñar Volveremos Volveremos a soñar S'havia estat coltivant per Gràcia I havia après que és tan important viatjar I jo escoltava i deia I amb qui dormen els altres I amb qui dormen els altres Ficar-me al llit Amb gent normal com tu I assumint aquell paper Vaig dir Bé, veurem què s'hi pot fer Vaig passejar-la pel mercat Pel barri Em va semblar un escenari adequat Va començar Vaig dir D'acord Si ara fes veure que no tens ni un duro I va riure i va dir Quina gràcia que boig estàs Ets molt divertit Doncs Francament, maca No, em sembla que ningú estigui rient aquí Jo t'ho has pensat bé això Viure com ho fan els altres Veure les coses que veu la gent normal Tornir i amb qui dormen els altres Ficar-te al llit amb gent normal com jo Però ella no entenia res I m'agafava del recet Comparteix pis amb estranys Busca una feina formal Puja al metro pels matins Vés al cine alguna nit Però igualment mai entendràs El que és anar comptant els anys Esperant la solució Que se'n porti tanta por Tu mai viuràs com viuen els altres Ni patiràs com pateix la gent normal Mai entendràs el fracàs dels altres Mai comprendràs com els somnis se'ns van quedant En riure i veure i anar tirant I si es pot mullar de tant en tant Com a cantar si ho faus? Grazie a tutti. Grazie a tutti.